Grazie 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 Chiediamo a Massimiliano Zanasi, tecnico del Rapidino Zalgo, un commento sul derby di oggi Finalmente è finito, è una cosa che mi viene a pensare Bene, un punto guadagnato, come ho detto i ragazzi sono dentro lo spogliatoio un po' avviditi Ma io sono convinto, oggi abbiamo incontrato una grossissima squadra con tantissime motivazioni Probabilmente non meritavamo nemmeno il pareggiare, quindi oggi un punto guadagnato Andremo a prendere i punti da qualche altra parte e oggi soltanto complimenti a San Lorenzo che ha fatto una grande partita Abbiamo Manuoli Chiappara, tecnico del San Lorenzo, a cui chiediamo un commento sul derby di oggi Sono soddisfatto della prestazione della squadra perché comunque abbiamo mostrato di essere un gruppo unito, compatto E voglioso di portare a casa la vittoria Purtroppo un episodio è stato sfavorevole Però considerando il fatto che abbiamo giocato per 70 minuti in 10 uomini Sono soddisfatto perché comunque la differenza di un uomo per certi tratti della partita non si è vista Purtroppo siamo stati poco cattivi nel chiuderla perché abbiamo avuto almeno tre occasioni per raddoppiare Poi il calcio è un po' così, quando poi sbagli i gol può succedere che l'avversario non è l'unica forse O comunque in una delle poche occasioni a disposizione che abbiamo concesso ci ha castigato Però in calcio è così, bisogna accettare il verdetto del campo, dobbiamo continuare su questa strada Perché è l'unica per ottenere dei buoni risultati e proseguire per fare un buon campionato Grazie